Siamo ripartiti dal tema della fiducia, da come partire da un sentimento più vivo di fraternità, di fiducia, di legame, di relazione. L'attenzione si rivolga veramente al più grosso problema che esiste in questo momento, che è il riscaldamento climatico. C'è l'opportunità di ripartire con questa gara in cui forse la medaglia d'oro finalmente la vincono i problemi importanti. Riendere un po' più semplice ed umano il rapporto tra le imprese e i cittadini e la pubblica amministrazione. Esplodere le competenze e le capacità delle donne. Questo mondo qua mi manca, cioè gente che vede le cose. Mi piacerebbe che la competenza dei cittadini venisse utilizzata per governare meglio la complessità di questa fase. La tecnologia offre soluzioni, la tecnologia ci offre risposte, non ci offre domande. La mia utopia è vivere in un paese in cui una politica lenta, profonda e dolce abbia cittadinanza. Usiamo di pensare i modelli educativi. Quindi il mio sogno è che alla fine questa epidemia che ci ha fatto chiaramente capire che siamo tutti legati gli uni agli altri e siamo tutti responsabili gli uni degli altri, ci porti davvero a fare un passo in avanti dal punto di vista culturale, economico e sociale. Grazie a te e arrivederci a tutti. Grazie. Buona giornata. Strada e relazioni, in queste due parole mi sembra di essere tornato al mondo.